Fiemme Marco, vittoria di misura per i rappresentanti del girone B. A Cavalese il caldo influenza la partita, ma i fiemesi riescono comunque a partire bene e sfiorano il gol con Valle. Il Marco reagisce guidato da Zanini e Cagliari, ma è zocca a impegnare maggiormente Simone Dell'Addio. A inizio ripresa riparte meglio il Marco, e al sessantesimo arriva al vantaggio meritato. Sugli sviluppi di un corner Gasperotti la mette alle spalle di Dell'Addio. Il GM inserisce i giocatori offensivi, ma pecca di lucidità. Vince il Marco 0-1, gli ha i rigori e ancora il Marco a vincere per 3-4.